per sottoscrizione a distanza si intende quella effettuata senza la presenza fisica e simultanue del professionista e del consumatore mediante l'uso esclusivo di uno più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto vi rientrano quindi i contratti conclusi via internet telefono fax televisione ecc attenzione e le informazioni per contrattuali del contratto anch'esso redatto con linguaggio semplice e comprensibile una volta sottoscritti devono essere forniti su supporto cartaceo o se il consumatore d'accordo su altro supporto duregole